Tra le novità presentate da Sony a questo CES 2012 di Las Vegas c'è anche questa particolare e curiosa docking station, si chiama GTK33ip, è una docking che accetta tre tipi di input dal classico RCA stereo posto sul retro, ha chiavetta USB ma anche ha una docking integrata per iPhone e iPod, ha una potenza dichiarata di ben 420 Watt quindi dovrebbe poter soddisfare qualsiasi esigenza musicale anche in ambienti molto grossi e come possiamo notare gli altoparlanti sono illuminati da una serie di LED colorati che lampeggiano il ritmo di musica, ci sono varie combinazioni di colori che possono essere scelte dal display, quindi sicuramente è una docking curiosa per chi ama lo stile hip hop e ha bisogno di sentire la propria musica in a gran volume.